Mai abbassare la guardia contro gli stupefacenti, un moneta espresso stamattina dalla Polizia Municipale di Sassari che in collaborazione con l'Istituto Tecnico Salvatore Ruiu ha incontrato gli studenti della scuola per sensibilizzare sul tema. L'incontro con le forze dell'ordine rappresenta da diversi anni un appuntamento fisso, fortemente voluto dalla dirigenza scolastica presente oggi con il vicepreside Gianni Mulargia con l'obiettivo di informare gli studenti sulle conseguenze fisiche e psichiche del consumo di droga. I ragazzi delle prime e delle seconde hanno ascoltato gli esperti, tra cui il maggiore Desole, specificare come l'assunzione di sostanze psicotrope, alcol compreso, comprometta lo sviluppo cerebrale con effetti nel breve e medio termine devastanti. Sintomatici in questo senso i dati esposti dall'agente Fabrizio Desole sull'aumento di casi di trattamento sanitario obbligatorio tra i giovanissimi. Diversi video proiettati, incluso quello di Canale 12, sugli arresti per possesso di stupefacenti nei confronti dei più giovani, anche per modiche quantità di erba. Il tenente Emanuele Fresi, responsabile nucleo servizi in borghese, si è soffermato sull'importanza per i teenager di cogliere l'opportunità di interagire in modo collaborativo con le forze dell'ordine, mentre l'assistente dell'unità cinofila, Franca Morittu, ha presentato Thor, il cane molecolare specializzato nel riconoscere anche le minime presenze di sostanza.